Sono Martina, ho la mano birichina, mi metto a pecorina e le cammina. No, no, tu Vittorio, no, Vittorio è là che sta in Parigi Germain. Ma non è che Vittorio sta in Parigi Germain? E' questa mano, andiamoci. Abbiamo anche Vittorio, vai andiamo, bello Vittorio. Oh Vittorio, ci siamo Vittorio a Benevento? Alla ricerca di creaturi misteriosi. Creaturi misteriosi. Alla ricerca di creaturi misteriosi. L'abbiamo trovato uno, eccolo, eccolo, un creaturo misterioso. Lui, un creaturo misterioso. Creaturo! Oh Vittorio, fammi a me, a me, a me, a me, a me, a me. Va bene con la testa, il genio. Ma voglio facciare una partita a calcio. Poi si deve giocare anche a Dani, se no a Busco. Eh, Dani, Dani, Dani. Eh, sì, sì. Pollicciate e iscrivetevi al canale. Che cazzo dice? Sì, Juventino. Pronti Juventino, anti Juventino. Ok, ragazzi, quello che dobbiamo seguire sarà quello della ragione. Ok. No, è un genio, no, è un genio. Sì, sì, abbiamo... Sì, sì, dobbiamo prenderla in pieno. Ma fa un culo, guarda. Ma lo dobbiamo far sentire, tra poco che lo seguiamo. Sì. Non dobbiamo mai vedere se non fuori. No, aiuta, questo cazzo. Dai, è un genio, è un genio, è un genio. Torna indietro, torna indietro. Ci lo voglio tutti, guardi, ci siamo volessi. Guardi, ci siamo volessi. Alec, vieni, vieni, vieni. Cazzo, vai, vieni, vieni. Cazzo, vai, vieni, vieni. Si sta avvicinando. Guardi, 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 guardi. Guardi, guardi, guardi. Guardi, guardi, guardi. Guardi, sta a qualche parte di là. Qualche parte di là. Siamo in sé, i problemi. Che cazzo gli hai detto? Che cazzo gli hai detto? Ho detto, qui. Farò bene. Sì. Dal buco del culo. Spiando dal buco del culo. Ma è che buon gioco. Ma basta, va. E c'è io, vai a vedere se stai a lungo, va, tu che stai più, va. Buona giornata. Sì, vai, sai, sai. A caccia. A caccia.